Buonasera a tutti, benvenuti nel canale YouTube di Formula 1 in generale e oggi discuteremo di un argomento particolarmente bollente e no, non è la presenza di quell'orsacchiotto che ti guarda fisso parleremo del budget cap ah, e di quel panda in via distinzione parleremo ragazzi noi del budget cap argomento molto discluso e molto bollente alla quale con dei ragazzi e con i ragazzi del gruppo Telegram di Formula 1 in generale la quale vi invito ad entrare abbiamo discusso più volte durante il corso di questa stagione allora io mi sono professato contro il budget cap per come è concepito nel 2022 per una serie di motivi che proverò ad argomentare poi voi siete liberi di dire la vostra opinione qui sotto nei commenti e magari cerchiamo di instaurare una discussione costruttiva uno scambio di idee, il confronto fa sempre bene allora, io sono contro per una serie di motivi il primo motivo è che non c'è una regolamentazione sugli incidenti nel senso, vero è che una parte del budget cap è destinato agli imprevisti e quindi anche agli incidenti ma è pur vero che se qualcuno ti colpisce e ti sbatte al muro e ti disintegra la macchina e viene giudicato colpevole con una penalità non è possibile che chi subisce il danno debba pagare perché visto che c'è un budget cap e gli sviluppi sono limitati si gioca sul filo degli sviluppi si rischia di compromettere un mondiale da terzi perché magari il tizio che ha sbattuto a muro Caio Caio non potrà avere certi aggiornamenti in maniera del tutto incolpevole quindi per quanto mi riguarda questa cosa dovrebbe essere discussa perché all'atto operativo non va bene terze parti possono influenzare l'andamento di un mondiale ma anche di un pilota che non si gioca il mondiale ma si gioca il posto per il titolo costruttori che sono milioni che entrano ai team non ce lo dimentichiamo cioè un terzo posto, un quarto posto, un secondo posto anche ovviamente il primo posto sono soldi per il team quindi fanno la differenza quindi questo è il primo motivo il secondo motivo è che un regolamento finanziario per definizione di regolamento finanziario può, e dico può, avere delle falle falle che se sfruttate cambiano gli equilibri di un mondiale che era la più grande preoccupazione di Binotto una delle più grandi preoccupazioni di Binotto successivamente fu rincuorato da Dominicali però vi vorrei ricordare apro una parentesi e la chiudo subito che esiste anche il fair play finanziario nel calcio con la UEFA che dovrebbe controllare ma eppure sappiamo le ultime notizie di Mbappé chiusa parentesi quindi tutto è aggirabile se hai i giusti avvocati i giusti banchieri la giusta gente che ti circonda puoi aggirare un regolamento finanziario è aggirabile può essere aggirabile la FIA dovrebbe controllare deve controllare e speriamo bene che non succeda una cosa del genere poi altro punto a sfavore a mio avviso del budget cap è che doveva doveva quindi dice avvicinare tutti quanti cosa che non è vera perché alla fine della fiera cosa stiamo guardando? una lotta tra Ferrari e Red Bull fine questo è Levi dall'equazione della Ferrari monomarca Red Bull Levi dall'equazione della Red Bull monomarca Ferrari per i tifosi Ferrari è tutto bellissimo ma se Liberty Media decanta lo spettacolo non è tanto bello anche se lo spettacolo artificiale per quanto mi riguarda a me non piace quindi in un mondo dove la Formula 1 è particolarmente complicata la direzione in cui ho preso la Formula 1 è talmente complicata che i team piccoli possono solamente aspirare a posizioni di mezzeria perché se non hai team satelliti se non hai strutture di simulazione che quasi ti costano mezzo miliardo perché alla me le macchine non si fanno più con i test privati ma al simulatore non competi letteralmente non competi è anche una questione di soldi ma anche una questione di ingegneri alla quale tu gli devi dare i giusti mezzi vediamo l'Aston Martin ma gli mancano soldi all'Aston Martin Stroll è ben disposto a spendere ma sappiamo tutti dov'è l'Aston Martin copia copia l'anno scorso era la Mercedes verde tempo addietro era la Mercedes rosa poi diventa verde adesso è la Red Bull verde per dire l'Aston Martin marchio produttore di automobili ragazzi fanno le macchine le Aston Martin le auto di 007 dico le conoscete è chiaro eppure guardate come è ridotto l'Alpine l'Alpine che da Renault è diventato Alpine Alonso che crede nel progetto Alpine va all'Alpine e non combina un bel niente se non una vittoria nel 2021 è basta è qualche podio sporadico perché? perché banalmente è un team senza team satelliti senza determinati mezzi non è un team che vende Power Unit ad altri non ha clienti non ha certe entrate e non può fare nulla è relegata lì però è pur vero che mi è stato detto su Telegram ma Gabriele i team non possono continuare sempre a spendere 500 600 700 milioni è vero è vero cioè è chiaro però a conti fatti con questi regolamenti tecnici con queste Formula 1 così complicate chi azzecca la macchina vince col Budget Cup e gli altri non possono più rispondere un Budget Cup poteva avere senso nel 2014 15 16 e 17 giù di lì poteva avere senso perché no fino al 2016 perché le macchine erano molto meno complicate anche a livello aerodinamico erano meno complicate quelle macchine adesso con queste monoposte effetto solo i team hanno speso soldi solo per risolvere un problema ovvero il proposing non per aumentare le performance per risolvere un problema dopo che risolvi il problema e dipende come lo risolvi perché se lo risolvi alzando la macchina perdi in performance se cambi il fondo e sviluppi il fondo in galleria spendi un sacco di soldi ma dipende se poi ti funziona o meno e quindi lì è un cane che si morde la coda per dire quindi io non sono convinto del budget cap per come è strutturato adesso capisco l'esigenza di fermare i top team o comunque di rendere tutto più equilibrato ma forzare lo spettacolo e falsare e falsificare il tutto no no non lo fai di 140 lo fai di 200 di 300 un margine ci deve essere un margine per quanto mi riguarda ci deve essere a me non convince questo video finisce qui io vi invito nei commenti qui sotto a commentare iscrivetevi al canale mettete la campanella e lasciate like ma io non sono uno youtuber ci manca poco nel prossimo video saluto con Hakuna Matata stile ciccio gamer così a caso vi chiedo pure i like ma ma dove ciao a tutti